Di nuovo insieme, seconda parte della nostra rassegna stampa in questo venerdì 14 di novembre. Vediamo ancora due prime pagine, quella della stampa e del tempo per poi passare agli aggiornamenti dal web. Si parla ancora di Job Act sulla prima pagina del quotidiano di Torino. Siamo pronti alla fiducia, sui licenziamenti è stato trovato l'accordo con quella minoranza del PD che non era ancora in linea. Poi c'è la protesta di nuovo centrodestra, serve un nuovo vertice e poi il ministro Boschi, no, discutiamolo in Parlamento. Il colloquio con Renzi modifiche solo per ridurre le forme di lavoro precario. Ed ancora da Banca Italia e BC si parla di credito alle imprese, una stretta anche nel 2015 e l'inflazione salirà. Roma, la rivolta delle periferie italiane, lo abbiamo visto ovviamente anche sugli altri quotidiani, in particolar modo sul messaggero e gli abitanti esasperati dai centri di accoglienza e dai campi Roma. Dopo le proteste sono stati evacuati 45 rifugiati, per il momento sono rimasti nella struttura soltanto altri circa 40 adulti. I minorenni sono stati già portati in un'altra zona. La manifestazione, questo è un momento della manifestazione davanti al centro di accoglienza di Viale Morandi, nel quartiere di Tor Sapienza a Roma. Ed ancora, come vorrei essere anch'io sulla cometa, quell'affarino metallico si è posato sulla cometa dopo un viaggio di dieci anni. Sono tanti dieci anni, quante vite sono passate, è morta tanta gente e quell'affarino ha viaggiato per un pezzo di vite, per 5 milioni di chilometri. Il riferimento è appunto alla sonda che è atterrata sulla cometa, operazione alla quale ha partecipato e contribuito anche il nostro paese. Vallisa ha liberato dopo le torture l'ostaggio in Libia per quattro mesi, per il tecnico italiano in mano agli islamisti e anche finte esecuzioni. Fonti locali parlano di un rischiato di un milione. Poi la sentenza d'appello rubi bis, lo sconto sulle condanne, resta il favoreggiamento della prostituzione, ma Fede, Minetti e Mora ignoravano la minore età. Ebook Amazon cede sui prezzi. L'editore francese manterrà il diritto di stabilire quanto vendere i libri in formato digitale. In ultimo, la pagina di apertura del tempo. Vince la guerriglia urbana, i migrati tutti trasferiti, periferie in fiamme. Alfano convoca il prefetto e il questore a Torsapienza via i rifugiati. Oggi il caos degli anarchici. La linea dura di Torsapienza a Roma ha avuto la meglio e ha piegato lo Stato. Dopo gli scontri e la guerriglia di lunedì e martedì notte, oggi il centro di accoglienza per rifugiati politici di via, Giorgio Morandi, sarà chiuso e gli 80 migranti verranno trasferiti. Tornerà a funzionare, assicura il vice sindaco Luigi Nieri, perché Roma rifiuta la violenza e il razzismo. È l'unico segnale dell'amministrazione di Roma assente sul posto. Il ministro Alfano ha convocato d'urgenza il prefetto e il questore. Oggi Roma trema per gli anarchici. In piazza ricompare al Baghdadi dell'Isis, ancora a minacce alla capitale di nuovo. Il discorotto del califo Pia Moseroma e la fotonotizia in taglio centrale che accompagna appunto il titolo. Renzi coccola i dissidenti del Partito Democratico. C'è la crisi con il nuovo centrodestra. Sulla legge elettorale il Premier trova l'intesa con Alfano. Incrinando il patto del Nazareno sul Job Act, contenta la minoranza del Partito Democratico e scatena le proteste, scusate, di nuovo centrodestra. CGL sempre più sola in piazza, quando Camusso diceva scioperare è inutile. Parla invece l'ostaggio Marco Vallisa. Io rapito in Libia, 130 giorni di terrore. E poi la petizione in tutto il mondo, la raccolta di film ai PM. Ora vogliamo la verità su Pierpaolo Pasolini. E ancora un titolo, le intercettazioni segrete di Ciancimino. La calunnia a De Gennaro e le telefonate con i giornalisti. Massimo Ciancimino, testimone imputato del processo sulla trattativa Stato-mafia per la DIA, è attore, teatrante, trasformista. Eppure Pataccaro e Menzognero, abile regista nei rapporti con i giornalisti, ai quali rifornisce a getto continua informazioni riservate o coperte dal segreto. Questo e altro rivelano le 184 mila intercettazioni, migliaia di pagine che il Tempo ha letto. e ha analizzato per questa sua ennesima inchiesta. Scendono a 59 i giorni che mancano al ritorno in India del Marò-La Torre. E ancora nulla è cambiato, nulla è stato comunicato dal governo. Velocemente sul web, per andare a dare uno sguardo al sito dell'ANSA e vedere quali sono le novità delle ultime ore, si parla di PIL italiano che scende ancora a meno 0,1%, scusate, è ancora negativo. 13 trimestri consecutivi di mancata crescita, economia ai livelli del 2000. Secondo le stime preliminari dell'Istat, il PIL è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, dello 0,4% rispetto al terzo trimestre, quello analogo però dell'anno 2013. Esciò però sociale in 25 città, l'allarme a Roma con i bus a rischio. Oggi venerdì nero, per i possibili disagi nella capitale, 10 manifestazioni, 3 cortei a Milano e trasporti a rischio. Blocco e ancora, andando avanti, si torna a parlare di Rosetta. Via libera alle perforazioni sulla cometa, si è deciso di caricare la sequenza, la sequenza che attiverà il trapano sulla superficie della cometa. Il processo d'appello, Sabrina e Cosima sperano, si ritorna a parlare del caso Sara Scazzi, la giovane oggi 28enne, è in carcere da più di 4 anni e con la prospettiva di finire i suoi giorni lì, perché ha sulle spalle il terribile fardello di una condanna all'ergastolo. Questo per quanto riguarda Sabrina Misteri. Ancora Obama in Birmania che incontra Sansu Kyi, il voto sia libero nel paese del sud-est asiatico, la democrazia non è completata, le elezioni ci saranno il prossimo anno e l'appello del Presidente degli Stati Uniti in una conferenza stampa con l'oppositrice birmana alla quale la Costituzione impedisce di candidarsi alla Presidenza. Un bimbo di 20 mesi ingerisce droga a pescare ed è in gravi condizioni. Un bambino di un anno e otto mesi è ricoverato in gravi condizioni, figlio di due tossicodipendenti e con il padre in carcere. Il piccolo è stato accompagnato in ospedale dalla madre. Ritroviamo anche sul sito dell'ANSA la notizia che avevamo visto sui quotidiani. In Ucraina, Stoltenberg pronti a sostenere la sua sovranità. Il segretario generale della Nato in un'intervista al Corsera le operazioni militari dal Baltico al Mar Nero sono quintuplicate e ci sono documenti che provano il tutto e quindi ora bisogna prendere provvedimenti. Mafia e Palermo. A Palermo un blitz contro i membri del clan Brancaccio. Un'operazione denominata Zefiro ricostituisce la vita criminale di uno dei più importanti mandamenti palermitani. Le accuse, associazione mafiosa, estorsione, traffico di droghe, possesso illegale di armi. Lo abbiamo visto, c'è l'accordo nel Partito Democratico ma NCD non ci sta ed è rottura. Anche sull'ANSA troviamo la notizia che riguarda Tor Sapienza con la caccia agli immigrati a Roma. Oggi Borghezio sarà nel quartiere romano. Trasferiti i bambini rifugiati in un'altra struttura del comune di Roma nella periferia il teatro di altri scontri. Ieri nuove proteste. Mal tempo. Un'altra vittima. Gabrielli cresce la rabbia e un corpo è stato recuperato a crema vicino ad un mulino invaso dall'acqua. Rientra il Seveso, sempre alto il Lambro, una nuova frana in Liguria. E una donna è sotto shock. Domani una breve tregua e poi di nuovo la pioggia. Niente limiti per musulmani nella spianata delle moschee. Siamo in Medio Oriente per la prima volta. Da tempo non ci sarà oggi alcuna limitazione d'età per i fedeli musulmani nell'ingresso alla spianata delle moschee per le preghiere del venerdì. Un rapido sguardo anche al sito di Rai News dove ritroviamo il Premier con il Job Act pronti alla fiducia da gennaio ci saranno nuove regole e poi contro invece il Job Act lo sciopero del trasporto pubblico locale e diversi disagi in città a causa delle circa dieci manifestazioni che prenderanno il via contemporaneamente. Anche qui il PIL ancora in negativo al 0,1% in meno rispetto al trimestre precedente 0,4% in meno rispetto allo stesso trimestre del 2013. Il maltempo la tregua ma continua l'allerta e anche qui il delitto di Avetrana con l'omicidio di Sara Scazzi prende il via il processo d'appello. Con questo breve giro sui siti web mi fermo ancora un istante però torniamo tra poco con altre notizie dalla Capitale. Grazie.